Buonasera, buonasera a tutti, un altro appuntamento con l'Agendina Gourmet, questa rubrica che curiamo insieme a Promoturismo FWG. Con me stasera benvenuta Annalisa Sandri, accademica e non solo, anche il sito, eccetera, eccetera, il blog e tutte queste cose. Manca sempre il sale, il blog si chiama Manca il sale, alla mia immediata a destra c'è Claudio Beltrame, pozzo di scienza di Promoturismo che conosce ogni anfratto del Friuli Venezia Giulia dal punto di vista ambientale e culturale, ma non solo. Udine e la Bascia, cominciamo da Udine, la capitale, la capitale prende con sé le cose più rappresentative. Diciamo che il frico è il primo biglietto da visita che si può presentare. Un non friulano, un turista che viene a Udine farebbe bene ad andare a mangiare una buona fetta di frico, se non addirittura un frico intero, magari se piccolo. Ho capito. Fricco, secondo me, può dar vita a una serie di contest. Allora, Carnia o Friuli? Eh, il dilemma, anche perché in Carnia... Beh, il dilemma, io sono carnico, non c'è assolutamente alcun dilemma. Non c'è storia. Beh, allora, diciamo che il frico carnico è quello duro, no? Quello di solo formaggio, viene fritto, diventa questa sorta di frittata bella porosa e molto friabile, tant'è che Gina Marpillero diceva appunto che il frico va mangiato in questo modo, tenendo in mano un pezzettino di frico e nell'altra un pezzettino di polenta. A Udine, e comunque in buona parte del Friuli, perché insomma la sagra del frico la fanno anche a Flaibano, lo fanno molto buono, lo fanno con le patate. E anche qua apriamo orizzonti sterminati, perché patate, formaggio e cipolla o patate e formaggio? Ai posti di larga sentenza, perché voglio dire, essendo un piatto della tradizione, chiaramente paese che vai, anzi casa che vai, secondo me, frico che trovi. Anche dell'innovazione, oserei dire, perché adesso si fanno certi azzardi col frico che lasciano che un po' perplessi, ormai trovi il frico con qualsiasi cosa. Ci manca che lo fassano anche con la Nutella. Tipo, tipo, bene, l'ananas ha conquistato la pizza. Sì, ma si mettono qualsiasi tipo di verdura, di frutta, di accostamenti con le castagne, con quello, con quell'altro. C'era un ricettario, c'era un ricettario con una trentina di diverse ricette di frico. Giorgio Boulton, no? Come si chiama Germano? Germano Pontone. Compianta, sì, Germano Pontone. Boulton. Sì, Germano Pontone, appunto. E lì ce n'era trenta, trenta ricette diverse, vuol dire avere tanta fantasia. Comunque sia, il frico è indubbiamente uno dei nostri cavalli di battaglia, nonché assolutamente piatto da provare. Ho capito. Un altro cavallo di battaglia è, secondo me, la gara è abbastanza aperta e la provada, no? Provada e Musetto. Provada e Musetto. Non è come dire Sandra e Raimondo, Stanley e Olio. Cioè, se tu dici provada, devi dire necessariamente provada e Musetto. Perfetto, accetto il richiamo, accetto il richiamo. Che è un connubio. Beh, la provada, diciamo che, innanzitutto, è una DOP, no? Del Friuli Venezia Giulia. Perché, come la facciamo noi? La facciamo solo, esclusivamente noi. Cioè, mangiata in questo modo, con le vinacce e con questa particolare forma, è solo ed esclusivamente friulana. Quindi è un peccato venire in Friuli e non mangiare la provada, ovviamente con il Musetto, sia con il cotechino. E la pietanza grassa ben si sposa con, diciamo, la base di aceto, no? Che ha la provada perché va a sciogliere il grasso. Un connubio perfetto, un matrimonio riuscito, tant'è che dura da tantissimi anni. Ma con la provada si fanno anche minestre? Sì, beh, la fanno in Carnia, particolarmente. E torniamo al vecchio discorso. Perché, non avendo le vinacce, fanno una cosa un po' diversa, sempre con le rappe, e fanno il brovadin. E col brovadin fanno questa minestra che, appunto, è a base di brovadin, di rappa, quindi. Abbiamo un po' dimenticato la bassa, vediamo di recuperare. La blave, perché la polenta, la blave, la blave, la blave, la blave, la blave, andiamo direttamente a Mortegliano. Qui sono stati favolosi, veramente bravi, hanno creato veramente un marchio universalmente conosciuto. Quando dici blave, Mortegliano, non c'è poco da fare. Dopo esistono chiaramente altri ottimi prodotti, ma diciamo, per, fai sul sicuro, blave di Mortegliano. Dopo da lì, dalla semplice macinato per fare l'immancabile polenta, perché ci vuole anche quella. Un po' di polentina, sempre, non può mancare. Ma a Cervo hanno già fatto del biscotto, il grissino, a qualsiasi altra cosa. Poi, tra l'altro, se posso dire, la blave. Quindi, chi va a Mortegliano va per mangiare bene e scoprire un prodotto buono, ma anche per vedere qualcosa di favoloso. Non dimentichiamoci che a Mortegliano c'è quello che io considero tra i più belli altari del fior di Venezia Giulia. Sei metri di altare, 60 statue. Giovanni Martini, siamo nel primo quarto del XVI secolo. È il campanile più alto d'Italia. E, parlando... Ormai è partito. Ormai sono partito, ma mi hai detto... Mi hai detto, ci diamo del tu, posso continuare. E mi hai detto, bassa. Poi, bassa, parlando campanile, è così, ma è un altro prodotto che in natura cresce dritto, di solito, è l'asparago. È la bassa... Pensiamo alle zone di Fossalon, le zone appunto ricche del gorgo, di latisana, da quelle parti lì. Ma anche, sono zone ricche di sabbia, di un terreno giusto, adatto proprio per l'asparago. Certo, certo. Non dimentichiamo anche la zona di Medio Friuli, nel Caminese, Camino Tagliamento, Varmo, eccetera. No, soprattutto non dimentichiamo, è che è una persona educata. La nostra analisa è molto educata e non ti ha interrotto, ma Tavagnacco, voglio dire. Sì, sì. Tavagnacco, sì. E poi, da una ricerca che ho trovato, sembra che il comune con più alta produzione di asparagi, non sia Tavagnacco, ma, lo dico piano perché non vorrei poi suscitare ire, no? Ma sia la vicina a Tricesimo, laddove c'è comunque i Sparks di Tresesin, ce n'è, ce n'è. Più terreno coltivato, sicuramente. E sempre restando a Udine, c'è una grandiosa ricetta del, boh, credo sia, cos'è, Settecento? Ah, sì, sì, fine Settecento, che le suorine delle dimesse... Eh, le suorine si trattavano anche bene, mi pare, no? Insomma, sì, decisamente, no? Ed era una minestra di Sparks, Cisarons e Cross. De Viglie, attenzione, quindi una minestra di asparagi, piselli e rane della Vigilia. E qui apriamo un discorso, no? Perché la rana, che cos'è? È anfibio, quindi non è né carne e né pesce. Appunto. No, però diventa pesce, perché erano autorizzate le suore, quindi chi più di loro, a mangiarla la Vigilia di Pasqua. E quindi minestre di Viglie. Benissimo. Le rane mi introducono a un breve discorso che avevamo fatto con Beltrame all'inizio. Gli ho detto, Sudine, va bene, il Tiepolo magari bisognerà dire qualcosa, sicuramente. Tiepolo, fermati, fermati, fermati. Ma adesso saltano fuori i croz, le rane. I croz, via Grazzano, via Grazzano, quando ancora c'era la rogge scoperta, adesso in parte ritirata fuori in due punti, davanti allo spende del museo etnografico. I croz, ma anche la ricerca delle proprie radici. Bisogna usare, passare quel portone, andare a visitare quel museo. Non è un insieme di vecchiume. Fa parte delle nostre radici. Poi era fatto una bellissima ristrutturazione. I croz, quindi ancora si fa. Però le rogge, no? Le rogge, le rogge... Sono coperte da riscoprire. Esatto. Le rogge sono sempre intriganti. Udine, per quanto sia bella, bellissima è tutto, però quando arrivi nei pressi delle rogge, ti si apre, tutti rimangono a bocca aperta. Ma che meraviglia. Prendi, guarda, via Vicolo Molin nascosto. Quindi non può essere chiaramente che la risposta lo percorri costeggiando la rogge, arrivi a un certo punto dove sono i lavatoi, meraviglioso contesto, proprio si presta molto alle foto, romantico anche se vogliamo. C'è una bellissima foto di Brisighelli, se non sbaglio. È bravissima. E quello lì però è il lavatoio, mi sembra, di Via Zanon, giusto? Di Via Zanon. Ed è splendido, anche perché i lavatoi erano i primi social della storia, eh? Cioè luoghi di assoluto, no? Assemblamento di persone. Ci si raccontava, ci si diceva, e tu c'è muta, io c'è muta. E lui è io c'è muta. Sì, era tutto live proprio, da un lavatoio all'altro. E poi sempre di rogge, appunto, tra Via Zanon, quel passaggio tra Via Zanon e Piazza San Giacomo, veramente, dove c'è la ghiacciaia, dove si dice che un tempo si vendessero i blocchi di ghiaccio, prima dell'invenzione del frigorifero. E poi un altro bellissimo passaggio, se da Via Siglio, Vicolo Siglio, per andare verso Via Paolo Sarpi, dove faccio un po' di gradini, eccetera, però veramente interessante. Passo attraverso quel che resta di una delle cerchie murari udinesi. Di solito c'è un bel razzat, così introduciamo un altro, ma quello non si deve cucinare. Sarebbe anche la stagione giusta, poverino, ma il splendido maschio di Anna Travuta a bianco, che si è appropriato di due blocchi. E su, è sempre lì, qualche buon'anima, l'anima Pia è buona, lo nutre. Quindi è sempre lì. Anche a Annalisa avevo chiesto di farmi un udine un po' più pop, meno evoluta, non nel senso dell'evoluzione stretta, nel senso di più antica. Le piazze, no? Le piazze che rimandano al cibo, che rimandano... E non solo, poi l'evoluzione porta anche a vecchi negozi, a vecchi modi di stare sulla piazza. A vecchi modi di stare sulla piazza, perché adesso le realtà sono cambiate, e l'evoluzione, ed è normale che sia così. Però c'è sempre questo legame con, diciamo, le piazze di Udine, dove c'erano i mercati. E cito una fra tutti, che è cara al cuore degli udinesi, e che è la piazza San Giacomo. Laddove, appunto, c'erano le ortolane che venivano dai paesi nirli mitrofi, e portavano i loro prodotti, dei loro orti, e li appunto li vendevano. Ma poi c'erano anche altre bancherelle, non solo di orti, c'erano le bancherelle dei formaggi. Che poi si trasferirono in via Zanon, se non sbaglio. Esatto, vicino ai Labatoi, proprio in quella zona lì. Tu mi hai scritto il formaggio di Flumiani. Eccolo, sì, avevo trovato la citazione di questo signore, che appunto aveva inizialmente la bancherella in piazza San Giacomo, e poi la portò, e la ebbe per tantissimi anni, in quel di via Zanon, in quello spazio appunto, vicino alla ghiacciaia. Subito dopo c'era un tempo la plazza degli uccelli, dove si commercializzava il pollame, poi anche, se ricordate, quando c'erano ancora i grandissimi platani, poi sacrificati perché erano un po' pericolosi. I pollame. E lì c'erano anche le vecchine che vendevano gli uccelli da compagnia, il cardellino, l'usignolo, eccetera. Non si può più fare, stiamo parlando di altri tempi. E poi è stato citato Brisighelli, dopo abbiamo Buiatti, abbiamo Ipignate, e quindi tutte queste piazze, questi aspetti dell'Udine che fu, li troviamo immortalati per sempre nelle loro fotografie, e che sono in parte esposte nel castello di Udine, e quindi uno dei musei forse più sconosciuti. E c'è quella foto bellissima, no, di Brisighelli, che lui dall'alto riprende proprio la piazza San Giacomo, e vedi che sono tutte queste bancherelle, una attaccata all'altra, una foto splendida. La gastronomia Pantanali, perché abbiamo anche, come dire, cucinato, non solo la materia prima. Allora, la gastronomia Pantanali era in via delle mercerie, ed era assolutamente un luogo di passaggio per il passeggio. Ossia, passavi, prendevi la crocchetta, la polpettina, e poi ti facevi il giretto, mangiando, così, uno street food. Street food, è bello. Allora, i social erano i lavattoi, lo street food era... Poi una piazza, l'attuale piazza 20 Settembre, lì si commercializzava a legname, e serviva anche quello, per riscaldarsi, ma anche per cucinare. E quindi, era una curiosità, no, di quell'Udine, diciamo, giustamente si deve citare il Tiepolo, e i vogli, nella città del Tiepolo, però, non so, Giuseppe Iappelli, l'architetto veneto, Veneto, ci ha lasciato due opere qua nella nostra regione, in primis il palazzo, ovviamente conosciuto, Palazzo Keckler, stile no classico, bellissimo, che si affaccia su questa piazza, ma autore, progettista, Giuseppe Iappelli è stato anche del Caffè Pedrocchi di Padua. Ma una curiosità, magari gli udinesi non sanno che è lo stesso che ha progettato quel bel palazzo, oppure, se dovessimo scendere nella già citata bassa, andiamo a Fraforeano di Ronchis, e là ha progettato il parco della villa di Asata Keckler, appunto, con il progetto dello Iappelli. Poi mi vengono così, adesso da un parco tira l'altro, è bassa per bassa. Ma anche le patate, dobbiamo arrivare alle patate, noi magari siamo sul basso di gama. Allora, per esempio, sempre nella bassa, arricchito dalle splendide acque di Risorgiva dell'Ostella, c'è il parco di Palazzo Badoglio, dove già si trovava il castello di Flambruzzo. E poi, un parco tira l'altro, vogliamo non arrivare in quel di Strassoldo, con i due castelli in questo splendido contesto, proprio meraviglioso, un borgo magnifico, sapientemente sfruttato anche, perché con l'edizione legata ai giardini, tutte queste acque. È un luogo veramente incantevole, infatti quelle due volte all'anno che lo aprono, in autunno, in primavera, con l'accesso al pubblico, per poter ammirare, è un piacere per gli occhi, no? Assolutamente. Certo. Poi sono un carico di storia, io l'ho detto la volta scorsa, c'è stato questo matrimonio di Radetzky, no? Mi pare. Sì, Radetzky che sposò la contestina dell'Istrassoldo, insomma, quindi, anzi. Luoghi ricchi di storia. Conosciuto anche all'estero, li trovi veramente turistiche. Ma noi siamo più terra a terra. Andiamo a Godia? Eh beh, certo. Vuoi non andare a Godia? Vuoi non andare a Godia? Vuoi non andare a mangiare un piatto di gnocchi? Esatto. Sentiamo che è questa. Sì, le patate di Godia, io veramente, cioè, che cosa devo dire di più? Nel senso che anche le patate di Godia sono uno dei prodotti più tipici che abbiamo. Sebbene il cultivar che c'è ultimamente sono le patate Kennebec, diciamo che arrivano da varie importazioni e da varie storie, comunque voglio dire, danno un prodotto veramente unico con il quale fare degli gnocchi, patate fritte, purè, qualsiasi cosa. Peraltro, a Godia proprio, ma anche a Ribis. A Ribis, certo. C'è, anche lì una volta all'anno, la festa, la sagra della patata. Lì bisogna armarsi un po' di pazienza. Però, effettivamente, pur essendo un prodotto da sagra, quindi insomma un prodotto veloce, tutto sommato, è un ottimo prodotto perché la base è veramente buona. Mi pare di aver letto che la qualità, una delle qualità delle patate, Ribis e Godia, sta nella resistenza alla cottura, per cui è un prodotto che vale anche per questo. Sulla prima genitura, sa come si dice patate in carico? Sì, perché voi le avete tedesche, no? Eh, certo. Le cartufolas, tant'è che a Medis di Sochieve fanno la Sagradas Cartufolas a fine luglio. Noi quale chiamiamo patatis o patachis, addirittura, più giù nella bassa, perché da noi sono arrivate con Antonio Zanon alla fine del Settecento, no? 1775. Fu lui che introdusse, visto che c'era carenza e carestia di mais e di grano, introdusse la coltivazione delle patate e anche quella delle rape, peraltro. Comunque, gnocchi, purè, minestre. Sì, come qualsiasi cosa. Con le patate, diciamo. Fish and chips. Ah, anche. No, so che sei una francofila, quindi saranno... Sì, io sono più da pureo, da patate dupesse. French fries. French fries, sì. Va bene. Il Diciottesimo secolo, visto che ha citato il Settecento, un momento di grande fervore in tutti i sensi proprio, a parte il tempo l'ho già più che operativo e attivo. 1737. Ce la faremo. No, ma volevo dire, non solo quello, nella già citata piazza delle erbe, dove c'erano già sicuramente le contadine, tant'è che, avete presente la facciata della chiesa di San Giacomo, c'è un ballatoio, dici fu un momento in cui il prete faceva la, celebrava la messa, ovviamente anteconcilio ultimo, la celebrava di spalle, dura poco, perché poi gli dicono, gli dissero, no, chi vuole entra in chiesa. Allora, lì, se entrassimo in quella chiesa di San Giacomo, c'è per esempio una delle statue più intriganti di Udine, mai visto Sara Velata del Corradini, di Antonio Corradini. Antonio Corradini arriva, muore a Napoli, cosa c'è poi? Il Cristo Velato, della cappella dei Sansepolcro, che non l'ha fatta lui, un suo allievo, però lui è quello che imposta, che insegna questa tecnica. Sara Velata è un blocco di marmo al quale riesce a dare a questa figura femminile di Sara una velatura che è veramente strepitosa. Andiamo sempre nella stessa chiesa, a fianco, a sinistra, lato dove c'è la cisterna, dove c'è la vela del pozzo, quindi, e lì di lato c'è. Qua nel 1737 venne battezzato tale Antonio Fresconi, si allontanò, andò a Parigi, e cosa fece questo Antonio Fresconi? Il primo spettacolo circense. Quindi pensate, ecco, per dirvi... La guarderemo con altri occhi. E poi il vino, scusa, tutte le patate, tutte le cartofole, tutto quello che vuoi, il vino, dove era la piazza del vino a Udine, la più bella piazza veneziana della terraferma, che noi conosciamo adesso come piazza libertà, già con Tarina, ma già piazza del vino. Piazza del vino. Sì, io sapevo che era la più bella piazza, in stile veneziano, sulla terraferma, no? Si poteva essere, in retroscena... Floreano e Venturini. Mi mancano, mi mancavano. Offro un altro assist a Beltrame, gli dico la frutta, la frutta nella bassa. La frutta? La frutta nella bassa, torniamo sempre là, nelle zone sabbiose, perché quelle zone ti danno ottimi asparagi, ma ottime fragole, ottimi meloni. Poi, se vogliamo, un altro team, che è nella zona di Gorgo, è sempre là. E poi, anche se dicono che se maduri i melons dal Gorgo, segno che tutto può arrivare, no? È un modo di dire. E poi, invece, ottime pesche, fiumicello, proprio ciliegie, anche cose del genere. Poi, ontaniano, le pesche, quindi già andiamo nella zona del palmarino, insomma. Un'ottima piarciolade, quindi. Le piarciolade. E quindi, anche da quelle parti, hai voglia, insomma. Abbiamo già citato Strasoldo, ma chi va da quelle parti ha Aquileia. Aquileia ha, se vuoi, anche qualcosa. Beh, a grado, vabbè, sei lì, insomma, magnifica, non ha bisogno di presentazioni con la splendida laguna. Però, che ne so, la chiesa di San Martino di Terzo d'Aquileia. San Martino di Terzo d'Aquileia. Proprio per il passare terzo, uscire un po', è una chiesa medievale, in un bel contesto. Fanno una festa della zucca, rievocazione medievale. Sono le vere e proprie perline, gioielli. Sulla bassa, il Re Fosco. Scodovacca. Scodovacca. Laddove, appunto, c'è un Re Fosco che è abbastanza particolare, perché essendo quella zona mitigata dall'atmosfera che deriva dal mare che è vicino, c'è questo vino rosso, pregiatissimo, che è perfetto anche con il pesce. Non ha quel... Sì, 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 sì. È il famoso vino rosso, il Re Fosco di Scodovacca. Allora, sto parlando di giardini, non possiamo non citare l'enorme parco di Villa Chiozza, dove, tra l'altro, Villa Chiozza ha sede, la Formo Turismo FWG, quindi la sede proprio regionale principale, che salutiamo. E, naturalmente, lì vicino c'era anche l'attività dei Chiozza, che consisteva nella mideria, che adesso, insomma, sembra, indirittura, dire, sauro, ecco, almeno qualcosa... La straordinaria testimonianza di archeologia industriale. Esatto, esatto, esatto. E poi, cosa possiamo citare? Pensaci, adesso, perché noi siamo sempre terragni, proprio, us, us e l'idric. Culpoc. Culpoc. Attenzione, che è una delle, diciamo, una delle tradizioni, vabbè, io dico udinesi, però, insomma, friulane in genere, della Pasquetta, no? Cioè, le uova sode e il radicchio, quello dal grumolo, quello con il poc. E questi us d'urs, l'idriculpoc, sono un piatto bellissimo per tutta la primavera, ma la peculiarità, appunto, delle scampagnate di Pasquetta è che poi si facevano correre le uova, no? Ossia, si andava nei prati per fare il picnic e c'erano queste gare a chi riusciva a far, appunto, correre il suo uovo più lontano rispetto al punto di... Nei prati di Santa Caterina? Eh, sì, eh, sì. Che poi Santa Caterina, no? Alla Memoria. Eh, alla Memoria, sì, perché, voglio dire, era la zona più vicina a Udine, dove però c'era la campagna, quella che adesso però è diventata Villa Primavera, quindi di campagna ne è rimasta un po' poca. Appunto. E, appunto, gli udinesi, senza spostarsi quindi di tanto, andavano a fare la Pasquetta Santa Caterina, che poi Santa Caterina, per la più parte degli udinesi, ma dei friuliani in genere, è legata invece alla fiera che si fa nel periodo di Santa Caterina, quindi il 25 di novembre, quindi in breve, tra poco. Che è un pezzo della tradizione della città. Ah, è un pezzo, è un gran pezzo della nostra tradizione. Io credo che tutti noi siamo cresciuti andando a mangiare le frittule di Santa Caterina, cioè proprio questa frittella enorme che ti davano, ma poi era un momento anche lì di grande aggregazione. Lo è ancora, per certi aspetti, però c'erano tutte queste bancherelle che vendevano prodotti tipici, che magari venivano anche da fuori regione, trovavi delle cose che trovavi solo a Santa Caterina. Mi ricordo che mia nonna aspettava quel momento tutto l'anno per andare a cambiare i ferri del gas. I ferri del gas. Li trovavi solo lì, non so perché, ma diciamo, no, i pezzi della cucina economica li vendevano in quell'occasione. Torniamo un attimo alle uova. Colorate o no? E colorate come? Beh, se dobbiamo colorarle, le coloriamo in maniera naturale, no? Perché, diciamo, i coloranti alimentari, che non vanno neanche tanto bene, sono una cosa di epoca moderna, per carità. Però i coloranti naturali danno questo effetto un pochino più soffuso, ma decisamente molto più gradevole. Allora, che ne so, io uso le barbabietole rosse per dare la colorazione rossa. Sì, lo faccio, lo faccio. Anche, ricordo, in ricordi della mia infanzia, venivano colorate le uova sode, naturalmente, con la cipolla rossa, con la buccia della cipolla, o verdi con le ortiche. Con le ortiche. Quello erano i due classici coloranti naturali. Non che ci fosse grande varietà, no, di colorazione, però erano belli anche per quello. Le scampagnate di Pasquetta, allora, magari anche il cittadino poteva salire sul colle del castello, a tre passi, proprio bastava un po' di fatica per salirci. Ecco, un altro legame con la bassa, allora andiamo nella leggenda, più leggenda possibile, inimmaginabile, perché la leggenda dice che quel colle sia stato eretto, edificato, tirato su praticamente dagli unni per permettere al loro re Attila di gustarsi l'incendio di Aquileia che bruciava dopo essere caduta sotto un lungo assedio, figuriamoci, no? Assolutamente naturale, però ogni tanto ci intrigano anche le leggende, quindi vedete che c'è un collegamento udine-bassa poi, anche come arte. Se noi dovessimo metterci a fare per esempio un percorso su Bernardino d'Abissone, che è uno dei vari lapicidi di Comacini che arrivano tra il XV e il XVI secolo, ha lasciato le splendide opere nel presbiterio della Basilica Aquileiese, ma la troviamo nella chiesa del Carmine a Udine, o lo trovavamo nella chiesa di San Pietro, adesso dobbiamo andare a Talmasson, c'è una specie di scatole cinesi, ne apri una a più che matriosche quasi, ecco. La matriosche più grande è il Tiepolo perché altrimenti non riusciamo a dire niente, abbiamo detto ne parliamo, ne parliamo, mancano poco più di due minuti. Dobbiamo parlare del Tiepolo. È un pochino. Giusto per, Udine. Allora, Tiepolo, veneziano, veneziano, che nasce nel 1696 a Venezia, muore nel 1774. Tiepolo chi è? È uno che ha la fortuna di fare nella vita un lavoro per cui è portato e che anche gli piace e gli permette di vivere bene. Quindi, il massimo. Questo nasce con talento, come può nascere Mozart col talento per la musica, altri. Questo nasce con la… e velocemente cresce, va a una bottega dal piazzetta, nessuno, tra virgolette, sottolineo, grammaticalmente non è corretto, nasce imparato, ma cresce. Il talentuoso cresce molto velocemente. Ma si sa che nessuno è separato. Ecco, sì, il talentuoso cresce molto velocemente e la fortuna di Tiepolo è che viene chiamato dal patriarca della chiesa di Aquileiese, nel XVIII secolo, tutti praticamente di espressione, nativi di Venezia, perché all'epoca eravamo governati dalla Serenissima, e il patriarca ha fiducia e gli dà carta bianca. Se Tiepolo fosse rimasto a svolgere la sua opera solo a Venezia, forse avrebbe avuto una difficoltà. Molto bene. Analisa sa che anche dagli Stati Utiti vengono a studiare il Tiepolo. E cosa trovano? Trovano quello che è stato il trampolino di lancio, affinché lui diventasse, si è diventato uno dei più grandi pittori barocchi che esistono del periodo. E quindi troviamo le gallerie del Tiepolo nel palazzo patriarcale, troviamo la splendida assunta nella cappella, nell'oratorio della purità vicino alla cattedrale udinese, dove, pensate, Tiepolo sempre presente a Udine, ritrae nelle gallerie del palazzo patriarcale il giovane, il primo genito, piccolino, infante, alla fine gli darà una mano nell'oratorio della purità, dove il primo genito opererà nelle pareti laterali e il grande artista nel soffitto. Lo troviamo all'interno della cattedrale, con delle pale, con degli affreschi, lo troviamo anche all'interno, se vogliamo, del Salone del Parlamento di Udine, una piccola parte, ma al Tiepolo non lo troviamo. Ho capito. Insomma, basta cercarlo. Basta cercarlo. C'è un pozzetto anche a San Daniele, sempre quello del friuli, dopo dovremmo andare a parlare di prosciutto. No, no, fermiamoci qui perché ormai il tempo è scaduto, però volevo chiudere, come dire, col dolce, col dessert e con la frutta. Allora, le gelaterie di Udine o la gelateria di Udine? Allora, quelle, diciamo, quella che non esiste più, che è ormai quasi leggendaria, è una gelateria che era vicino a dove adesso c'è il teatro Giovanni da Udine, ed era la gelateria delle vecchine del gas, del gas perché lì c'era la sede, no, dell'AMGA o comunque... Era, sì. Adesso come si chiama? No, era la sede, era l'AMGA. Era, insomma, ci siamo capiti. E loro avevano la peculiarità di fare tre, quattro gusti, quello era, e le vedevi dietro nella cucina che lavoravano. Poi in epoca più recente le gelaterie celebri, per quelli, insomma, della mia generazione, erano quelle della nave, no? Nave 1, nave 2, nave 3, che però adesso non esistono più. Ma la cosa che io più amo ricordare di una Udine che ormai è solo nei miei ricordi, è, sono le sere d'estate... Eccola qua, la frutta, la frutta. ...quando si andava in Via Al Trieste e c'erano le bancherelle, una su tutto, cito uno per tutti, quelle di Dario Pividori, no? Le bancherelle dell'anguria, anche del cocco, però fondamentalmente dell'anguria ed erano veramente... E' straordinario, pezzetti di storia cittadina che vanno ricordati, che vanno anche approfonditi, il tempo che abbiamo, l'abbiamo consumato velocissimamente. Niente, non ci resta che darci appuntamento per un'altra puntata, insomma, ce n'è, ce n'è da scoprire, da scoprire soprattutto, perché è una storia che nessuno forse vi racconta questa. Alle volte no, quindi è bello saperlo, no? E poi uscire magari sotto i cieli di Udine, vedere i cieli del Tiepolo e averli magari visti anche di qui, capisci, no? Rasserena, allora grazie a Claudio Beltrame che rappresenta Promoturismo FVG, grazie mille a Annalisa Sandri, la ritroveremo senz'altro nel nostro percorso. Grazie a tutti voi per l'attenzione, alla prossima. Grazie a tutti.